Ho sentito, ho sentito, fra quattro anni. Come? Con chi parlo? Eh? Con chi parlo? Con chi parlo? Con chi parlo? Senti? Sì, con chi parlo? La sento? Fai passare quella ragazza, per me stai in mezzo di quegli uomini. Lui è impressionante. Racconta la tua storia, lui ha fatto un libro di 15.000 pagine. No, 1.500 pagine. Che costa? 11.000 euro. 11.000 euro. Mai pubblicato. La pende umana, sì. No, bella di capretto. E non l'hai stampato perché? Non l'ho mai pubblicato. Lo volevo presentare questa sera. E' uno che è un piccoglione di un po' Mi spiega tutto il libro dicendo, costa solo 11.000 euro, però ce ne sono poche coppie. Quante coppie sono? Tu perché mi stai sempre venendo? 1450 pagine. Ah, lo sai anche tu, sei il suo soggetto. È il mio assistente. No, 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 no. Due rompicoglioni insieme. No, 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 no. No, 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 no. Vabbè, dai, allora, qui tutti stanno girati di qua, ma facciano parlare loro. Io posso rispondere a delle domande, sì. Vai, allora facciamo così. No, no... No, no... No, no... Grazie.